Quest'estate si sono rincorse molte voci sulla reale possibilità che i Simpson avrebbero fatto meno di un personaggio chiave di Springfield. I fan più accaniti si sono fatti prendere dall'ansia di scoprire chi fosse il malcapitato. E ora che è in America e è andato in onda il primo episodio della 26esima stagione, dal titolo Clown in depressione, ecco la verità. Vi diciamo subito che non è l'amatissimo Krusty a lasciare la serie, ma un personaggio comunque legato a lui. Ad esalare infatti atrocemente l'ultimo respiro è il padre, il rabbino Himan Krustovki, proprio quando sta ammonendo il figlio che gli chiede aiuto. Il tragico esordio però ha particolarmente deluso i fan storici che si sono sentiti ingannati dagli autori. Il rabbino infatti è apparso solo in 6 episodi su circa 550. Molti non hanno avuto pietà e lo hanno definito addirittura il peggiore episodio di sempre.